Mr. Marco Sanginario, il campionato va verso la conclusione, cosa pensi al riguardo? Beh, che abbiamo una fase di stallo che non giova sicuramente alle società e al sistema futsal in generale, in quanto credo che una decisione andava presa il prima possibile per mettere un paletto sul campionato che oramai io credo sia alle spalle e iniziare a programmare in sicurezza il 2020-2021. Stagione molto positiva da parte vostra, fino alla sosta siete andati oltre le aspettative mettendo in archivio la salvezza con largo anticipo. Assolutamente sì, la vittoria di Barletta ha consacrato la nostra salvezza sul campo, in realtà abbiamo fatto tutto un campionato in zona play-off, ma come spesso ho detto per salvarsi in questa categoria bisognava lottare per i play-off per puntare a una salvezza tranquilla, così è stato. Dopo la partita di Barletta avete iniziato a programmare il futuro insieme alla società, quando si ripartirà quali saranno le novità per il CLN Cusmo-Lise? Beh, sostanzialmente novità grosse non ce ne saranno, cercheremo di confermare la rosa attuale e puntellare un attimino la squadra senza fare il passo più lungo della gamba perché sappiamo che l'emergenza sanitaria che è ancora in corso avrà ripercussioni non solo a livello di salute ma sicuramente anche a livello economico, quindi senza follie cercheremo sempre con molti ragazzi del posto e qualche straniero di poter fare un'ottima figura anche il prossimo anno. Sicuramente possiamo dire che si ripartirà tra gli altri da Mateus Barichello. Beh, Barichello ha un triennale con noi, la voglia del ragazzo è quella di restare, stiamo aspettando a mettere le conferme ufficiali per il semplice fatto che aspettiamo un comunicato ufficiale dalla divisione che ci attesti la conclusione del campionato 2019-2020 per partire appunto con le conferme della prossima stagione. Ovviamente tra le prime riconferme c'è sicuramente il nome di Mateus Barichello.